Eccolo qui il terzo organizzatore Attilio in arte Batman Ciao ragazzi, avete visto che edizione straordinaria che abbiamo quest'anno è la Latin Cruise del 2016 e siamo a 700 persone quest'anno e l'anno prossimo punteremo a fare 1000 persone Quest'anno è cambiato qualcosa, l'anno scorso è stato un successo, quest'anno un successore Quest'anno abbiamo invitato più scuole, si unite molte più scuole di Chizomba perché abbiamo ben 8 scuole di Chizomba e poi quelli che sono muti l'anno scorso sono ritornati tutti, hanno chiamato amici e parenti quindi stiamo migliorando ogni anno Evidentemente la crociera attira, questa sera ballo in maschera, domani sera? Domani sera ci sarà il Malibu Party, domani sera serata Malibu, il bianco a fiori e sarà una bella serata per tutti Attilio dobbiamo chiederti di toglierti la maschera Eccolo qui, questo è il vero Attilio Ok, grazie Merigo Allora domani avremo gli stage, avremo le serate, abbiamo tanti ospiti, tanti spettacoli e vi aspettiamo, ormai facciamo la pubblicità già per il 2017 Ok Attilio, ti ringrazio, ci vedremo in questi giorni Allora magari ci sentiamo e ti riintervistiamo Grazie mille Allora in bocca al lupo a Latin Cruise Buona serata Ciao Grazie Grazie